Buongiorno, sono il volontario San Cineto Pietro, progetto Franco Basaglia, sede a Trebisacce. Il coronavirus ha portato sicuramente a dei cambiamenti nella vita della gente, cambiando abitudini e atteggiamenti nelle relazioni con le altre persone. Durante le interviste effettuate sono emersi aspetti positivi e aspetti negativi. Tra gli aspetti positivi più comuni ricordiamo il senso di responsabilità individuale nei confronti dei propri familiari e nei confronti dei propri amici. Due, si ha più tempo per vivere le relazioni familiari e di vivere questo momento come un'opportunità per riflettere e dedicarsi a cose che in altri momenti sarebbero trascurate. Mentre tra gli aspetti negativi più comuni sono emersi il disagio per un tempo da investire diversamente, due, il senso di isolamento e di solitudine, tre, la sensazione di mancanza di libertà ed infine quattro, il disagio per la rinuncia a momenti di aggregazione. Dagli intervistati ci sono anche quelle persone che, anche se in piccola parte del campione, dichiarano che durante il tempo del Covid non hanno apportato modifiche al loro stile di vita. Inoltre abbiamo notato che tale risposta cambia in base all'età delle persone intervistate, quindi è il rapporto con l'età. Le persone che hanno dato tale risposta sono principalmente di età uguale o superiore ai 75 anni d'età. Grazie per l'attenzione.